Il Vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarolo, ha celebrato messa ieri pomeriggio alla Casa di Cura di Porto Viro, in occasione della Festa della Madonna della Salute. Questo ospedale si chiama appunto Madonna della Salute, ha detto Tessarolo, dove salute significa stare bene. Ricordiamoci che la salute è un dono che dobbiamo cercare di conservare. Nelle grandi prove della nostra vita ci dobbiamo rivolgere alla Madonna, che ha provato la somma sofferenza, sperando nella sua vicinanza. Al termine della cerimonia, l'amministratore delegato della Casa di Cura, Stefano Mazzucato, ha preso la parola per fare il punto sul ruolo e sui progetti futuri della struttura di Via Badaloni. La Festa della Madonna della Salute è una festa per tutti nella Casa di Cura e richiama al primo dovere, che è quello di essere persone al servizio di persone, ha detto Mazzucato nel ringraziare tutti gli addetti della struttura. Per noi, quello che volge ormai al termine, è stato un anno particolarmente importante, culminato con la riconferma della qualifica di presidio ospedaliero. Abbiamo servito il territorio per più di 60 anni e contiamo di continuare a farlo nel futuro, annunciando con ciò che il prossimo anno prenderanno il via i lavori per la ricostruzione della nuova Casa di Cura, che una volta terminata vedrà l'abbattimento della struttura preesistente. Intanto volgono al termine i lavori del nuovo parcheggio di Via Giuseppe di Vittorio, parcheggio che abbiamo deciso di intitolare, ha proseguito Mazzucato, al maestro Vinicio Mormile, uno dei soci fondatori della Casa di Cura.